Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle 9 caratteristiche del segno del Capricorno che tutti devono conoscere. Allora, quali sono le caratteristiche del segno del Capricorno che tutti devono conoscere? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, le caratteristiche che vanno conosciute dei segni zodiacali, dei segni del Capricorno in questo caso sono, la prima è che è un segno coerente, cioè quando dice qualcosa tende a fare quella cosa, quindi è allineato e coerente. La seconda caratteristica del segno del Capricorno è la pazienza. La pazienza è fondamentale, diciamo, per il Capricorno, sa governare la rabbia, non si lascia prendere dall'ira, ma sa pazientare ed è questa una caratteristica importante. Altra caratteristica del segno del Capricorno è che è una persona ambiziosa, quindi tende a voler raggiungere, si dà degli obiettivi importanti da un punto di vista lavorativo e cerca di fare di tutto per raggiungerli. Il segno del Capricorno è determinato, quando punta un obiettivo diventa una specie di mastino, non molla la presa fin tanto che non l'ha raggiunto. il suo motto fondamentale è ho perso una battaglia, ma alla fine vincerò la guerra e continuo ad andare avanti fin tanto che la guerra non la vince. Questa è una caratteristica fondamentale del segno del Capricorno. Poi la quinta caratteristica è la disponibilità, diciamo, la disponibilità e la cordialità. La quarta caratteristica, la disponibilità e la cordialità. Quindi il segno del Capricorno è comunque disponibile verso gli altri e è cordiale, insomma, la cordialità lo contraddistingue. Un'altra caratteristica, la quinta caratteristica è la disciplina, cioè essere metodici. Il segno del Capricorno è un segno razionale, quindi sa, diciamo, essere molto metodico. Sa fare dei planning, delle pianificazioni e rispettarle. Passo alla volta arriva sempre avanti. Poi abbiamo la riservatezza. È un segno riservato, non influisce sulle altre persone, mantiene la riservatezza ed è veramente una persona alla quale tu puoi confidare una cosa personale, un segreto e stare tranquillo che non verrà divulgato. Ha un po' di malinconia, sono un po' malinconici, talvolta tendono alla tristezza quando le cose non vanno per il verso giusto. L'ottava caratteristica è l'autenticità, cioè il signo del Capricorno si manifesta per quello che è, tende a non usare delle maschere o qualora usi le maschere sono comunque, diciamo, casi molto rari. Normalmente si manifesta in modo, si palesa in modo autentico per quello che è. L'ultima caratteristica, la nona, è la pragmaticità. Cioè il signo del Capricorno, nonostante possa, è interessato anche a tematiche di natura trascendente, anche a tematiche di natura trascendentale, spirituale, le affronta però da un punto di vista pratico e pragmatico, cioè non soltanto metafisico, ma va alla ricerca di riscontri, va alla ricerca di prove, va alla ricerca di dimostrazioni. Ecco, questa è una caratteristica importante perché anche la spiritualità, anche il trascendente, può essere affrontato in modo metodico e tecnologico e con risvolti pratici che possono avere riscontri importanti nella vita di tutti i giorni. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao!